Siamo a Viale Venezia Brescia, finisce questa mille miglia di Fonditale, una mille miglia molto intensa, abbiamo toccato tantissime tappe, sta per arrivare la nostra macchina, la Porsche Speedster del 1954, ecco abbiamo i nostri driver, abbiamo Andrea e Doriano, eccoli che stanno arrivando, adesso aspettiamo veramente l'arrivo, è stata veramente intensa, tantissime persone che abbiamo incontrato in ogni tappa e oggi si conclude questa avventura veramente importante di Fonditale, un'avventura che si ripeterà molto probabilmente, ma che ha dato grandi soddisfazioni, ma rimaniamo ancora in attesa di vedere il loro arrivo, sono tantissime le autovetture, possiamo anche vedere che stanno per passare qui davanti al traguardo, una competizione molto impegnativa, sono state quattro giornate veramente calorose, calorose sia da un punto di vista di accoglienza del pubblico che abbiamo incontrato lungo il tragitto, ma anche da un punto di vista veramente meteorologico, caldo veramente forte, abbiamo i nostri due driver che sono veramente abbronzati, cotti dal sole, anche più abbronzati, ma anche dalla stanchezza ed ecco che si stanno avvicinando, li abbiamo vicino, stanno per arrivare ed ecco aspettiamo ancora qualche momento, ma è un momento emozionante, eccoli che passano per arrivare e vanno al traguardo, vanno al traguardo, benissimo, allora non possiamo che augurare a tutti voi di tornare a seguirci presto, è stata un'avventura veramente entusiasmante, è stata un'avventura che ha dimostrato come la formazione non si ferma, così come non si ferma la mille miglia, non si fermano queste splendide automobili storiche che dagli anni venti rappresentano un pezzo di storia veramente internazionale della mobilità. Grazie a tutti per averci seguito.